Ciao a tutti da GiguriTechnophon.it Video registrato in Full HD con LG G5 più 1, 6, ho solo una mano, ho solo 5 dita fotocamera 5 megapixel, quello che vedete è il grand'angolo se adesso io lo vado a chiudere, tac, vedete è tutto molto più chiuso mentre con il grand'angolo avremo un effetto super panoramico e riusciremo a far entrare tantissime teste dentro ai nostri selfie ci muoviamo un attimino per far vedere anche la qualità di registrazione come ho detto è una 5 megapixel ed è in grado di registrare video in Full HD a 30 frame per secondo, ora ce ne ritorniamo all'ombra abbandoniamo la spiaggia che la vedete nel retro e vi saluto, ciao da Diego